Il drone è pirata in mezzo Il drone è pirata in mezzo Non ci vediamo il drone Sta salendo aci No beh Posso scalettare C'è un altro Attento c'è uno alla finestra appeso Tu qua stanno La finestra sta qua Non ci vediamo 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 F filtri Non ci vediamo Non ci vediamo Non ci vediamo Quattro! a 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 few moments later a 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